In Camera di Commercio ad Arezzo, nel martedì 25 marzo, la consegna di borse di studio per un master sulla storia e il design del gioiello. Il momento si sa non è dei più facili, però investire sui giovani e sulle loro competenze e professionalità sicuramente alla lunga premierà e sarà la carta vincente anche per valorizzare la produzione di un territorio come quella orafa che caratterizza anche l'aretino. Ci ha visto i protagonisti insieme all'Università di Siena con un contributo economico a questi ragazzi che partecipano a questa master in storia e design del gioiello. Noi siamo particolarmente attenti alle dinamiche giovanili, questa è una provincia che nonostante tutto ha un numero particolarmente elevato di giovani che sono disoccupati. Dai 16 fino ai 27 anni sono ben 36% dei ragazzi, quindi percentuali che rispetto ad altre province d'Italia sicuramente più basse ma sono davvero particolarmente elevate. Quindi l'attenzione da parte della Camera di Commercio al fronte dei ragazzi, delle università, dello studio e non a caso abbiamo messo importanti risorse nel polvo universitario. Negli ultimi mesi oltre 200.000 euro, siamo ripartiti con i corsi di economia aziendale e con i corsi di russo e di cinese e stiamo lavorando anche per l'introduzione dei corsi di cultura e lingua araba. Siamo con il dottor Giuseppe Salvini, un'importante collaborazione tra università e Camera di Commercio proprio per formare professionalità adeguate allo sviluppo di questo settore che è trainante ancora per l'economia. In particolare consegneremo cinque borse di studio per consentire in tre casi il totale pagamento delle quote di partecipazione e in due casi un abbattimento del 50%. È un corso che in particolare dovrà formare i nostri giovani a tecniche di marketing del gioiello, a design del gioiello, alla storia del gioiello. L'esperienza dello scorso anno, questa è la seconda edizione del Master, ci conferma che le aziende della nostra provincia richiedono queste figure professionali. Un progetto che vede partner anche Banca Etruria e noi siamo con Lucas Cassellati. Questa è un'iniziativa veramente meritoria che ha insite diverse caratteristiche, quindi il recupero della tradizione, aspetti culturali, aspetti economici legati appunto al distretto industriale dove operiamo e i giovani, quindi il futuro. E quindi è un'iniziativa senza altro di grandissimo spessore che per quanto riguarda la banca, per quanto riguarda la banca Etruria consente di mantenere sempre più forti i saldi.